Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo dietro di me è l'albero del Piccioni e stiamo andando a Roma. Lì c'è Martina. In pratica dentro quest'albero ci sono rifugiati partigiani in tempi di guerra. Le colazioni in tempi di Covid. Sono le 7 e 46. Buongiorno. Raga, acqua sanda d'acqua sanda. Siamo arrivati a Roma, ma cosa vedo in lontananza? Ma c'è Gandhi qui. Nell'attesa vi mangio un etto di mortadella. Perché mortadella vi chiederete? Ce lo voglio. E vi dirò, è stra buona. Comunque ragazzi, sono a Roma in qualità di accompagnatore di Martina che doveva farsi un trattamento. Quindi visto che il DPCM prevede questi spostamenti, ok. Ci siamo avvicinati al Foro Italico perché ci è venuta voglia di mangiare un qualcosa di succulento. I nostri panini sono arrivati, però il problema è come mangiamo. Come potete vedere siamo rintanati sotto una tettoia. Lo stare in piedi non fermerà la mia voglia di fare vlog. Eccoci qua, questo panino. In un panino abbiamo del fritto misto, insalata, salsa rossa e non lo so, ancora lo assaggiamo. Salsa madigiana. Diti me che riesce a fare food vlog per terra a Roma. E ora non ci resta che mangiare la parte più succulenta, ovvero il fritto. Gamberoni al ghiaccio, bacon, rucola, salse particolari, chips croccanti, melanzana e, per finire, pure il fior di latte. Questo qui non derude mai. Classico intramontabile. Non è non è nobile, è romanzana Non è che l'esercito, non è che la scuola, ma non è che la scuola è intramontabile. Il nostro breve giretto a Roma è finito, con questo caffettino vi saluto e ci vediamo al prossimo video. È un po' provato a Marte. Grazie a tutti.